Ciao a tutti sono Iwots e quest'oggi vi andrò a mostrare come mettere la mappa Sky Spheres su Minecraft 1.9 Questa mappa come la titola è stata iniziata da Surreal Power quindi oggi vi andrò a mostrare come giocarla pure voi Molto semplicemente vi basterà andare nel link che trovate nella descrizione che vi porterà su planetminecraft.com Dove scrollando la pagina troverete appunto questa sezione sconsiglia download E voi dovete semplicemente cliccare su minecraft world save e vi appunto aprirà un'altra pagina di mediafire Dove cliccando su download, qua c'è appunto il peso del file, vi partirà download e finirà veramente in pochissimi secondi Una volta che ho finito il download della mappa trovate appunto l'archivio zip che dovete andare ad estrarre tramite 7zip o urrar In cui trovate il link del download nella descrizione Quindi fate tasto destro, 7zip, estrai file, facciamo ok E una volta che sarà stata la mappa ci troveremo questa cartella Andremo a cliccarci dentro, poi troviamo ancora questa cartella qui Che appunto dovremo andare a copiare facendo copia o taglia E poi andare nella cartella di minecraft che si trova sul percento update per cento roaming.minecraft E all'interno della cartella saves La incolliamo qui dentro e poi andiamo ad aprire minecraft, cosa che ovviamente ho già fatto Andiamo appunto a metterlo come vogliamo noi Andiamo appunto a vedere la mappa che è questa qui E questa appunto è la mappa che ha appena iniziato su Rappower Vi volevo invitare a guardare anche il video su come non far laggare minecraft 1.9 In quanto è uscita una nuova versione della Optifine E appunto trovate il link appunto del video nella descrizione Questa è comunque la mappa, io sono Ivots, questo è il tutorial Spero che vi sia stato l'aiuto In caso fosse così vi inviterei come al solito a lasciare un bel mi piace E per qualsiasi problema lasciatemi un commento E noi ci vediamo nel prossimo tutorial Ciao a tutti